Buongiorno a tutti ragazzi, abbiamo in questa nuova riserva della G9 Run con i7 e qua ci troviamo a Cosmo Canyon qua, sarebbe la città natale di Red XIII, eccoci qua. Sono a casa, sono io, Nanaki. Ehi Nanaki, sei salvo? Entra e vai a salutare Buchenaken. Nanaki? Benvenuto a Cosmo Canyon, conosci questi tuoi territori? No, lascia che ti spieghi, la gente di tutte queste razze viene sempre ad assistere allo studio sulla vita del pianeta. Mi spiace, siamo a completo, non potrei entrare. Mi hanno aiutato lungo la strada del ritorno, falle entrare per favore. Oh davvero, avete aiutato Nanaki? Prego, entrate pure. Nanaki? Chi è Nanaki? Nanaki è Nanaki, si chiama così. Oddio, dobbiamo cambiare scuola qua. Ok, quindi ve lo nomi di Red XIII e Nanaki, quindi eh. E speriamo di non beccarmi i copi, vialte qua. Questa canzone figa qua. Oddio, quando... Può entrare qua. Ok. C'è qui una cosa qua. Ok, vediamo che prende qua. A me il terreno da ieri qua. Quindi, andiamo... Andiamo a... Ammai a bizzeffio qua. Ok, andiamo... Andiamo al Raginger Red XIII, che... In realtà è un vero nome di Red XIII, comunque... Nanaki. Quindi qua... C'è praticamente... Pura Nanaki, Nanaki è tornato, ho pensato a questa fiamma. Chiamata... Candela del Cosmo, mai... C'è mai dal secolo. Oh no, dal secolo. È una fiamma che è il saga che protegge questa fiamma. È una fiamma che si as... Che si as... Che si as... Spenda solo una volta tanto, tanto tempo fa. Ma... Gli anziani dicono che accade qualcosa di orribile, ma... Io... Non è che so molto. Ok, è una nuova commissione, siete venuti? Sì. Davvero, pare che qui ci siamo osservato il sole. Tanto... Vanno a vedere. Ok, andiamo a raggiungere il Raginger Red XIII, va? Ma... Qui è dove sono, cioè... Questo è il mio paese. La mia tv ha sempre protetto gli abitanti di questo canyon nel paese. Mia madre si è battuta ed è morta qui. Quel vigliacco di mio padre è fuggito. Io sono l'ultimo della mia razza. Vigliacco? Sì, mio padre era un buon a nulla. Ho eredizzato tra il niente e Naki la missione di proteggere questo luogo. Il mio viaggio finisce qui. Ehi, Nanaki, sei a casa? Eccomi, nonno. Sono stanco morto, che ne dite di poterci un po'? Ok, andiamo. Qua c'è? Cocco del ferro. Ok, andiamo. E qui c'è. Salvataggio qua. E credo che... Vabbè, dovremmo... Raggiungere gli altri... Allora, vediamo la gente molto facile. E qui non troveremo altro che... Ma non preoccuparti, se no. Ok, vediamo che armi vendono. Ok, un'altra arma di trap e crowd. Mettere l'equipagno. Vengono tante armi vuole. Ok, intanto... Compresa la nuova arma per red 13. Per kitesit. Faccio una delle con il problema. Abbiamo già parecchie qua. Si. In parte che a crowd... Equipaggio il nuovo equipaggiamento. Ma che fai eh, che... E mo... Non lo so. Un po' qua. Va andare a riposarti qua. C'era questo tizio che studiava la vita del pianeta. Non sopportava come andavolo... Ah... Quindi Avalanche è nata a Cosmocanon. Mi chiedo... Se questa... Teoria di Avalanche... Verrà proprio ondita. E sarà proprio ondita anche su Final Fantasy 3-bit. Quindi... Avalanche è nata a Cosmocanon. Ho sempre desiderato... Verirci. Infine ce l'ho fatta. Quanti ricordi? E allora? E allora non so proprio cosa succederà. Ora che Avalanche non c'è più. Dove l'ho messo? Sono sicuro che era qui. Sì... Ok... Così... Dovemmo raccoglierebbe... Tredici. دucati... I messi... Megazione... C... ... Ok, non so dove devo andare qua sti qua, magari è di qua che devo andare, altro vi ringrazio E comunque alcuni episodi saranno ricevendo un bel po' di visualizzazioni in più Ok, non so dove sono le 13 degli altri Credo che dovrei invenozziare qua, scusate Qua gli sto io a prendermi qua Ah già di qua che dovevo andare Buchenaken ha sigillato la porta, come ho fatto? Con la supercolla? Apparente con la magia, vero Oddio non vedo un cacchio Siamo già in 10 minuti gameplay qua E di nuovo stai suonare Cloud, ecco Buchen, mia nonna Egli è incredibile e conosce ogni cosa Oh ho ho, ho sentito che hai aiutato Nanaki Beh, sai, ancora un bambino Calma nonno, ho 48 anni Oh ho ho, l'attributo di Nanaki è molto longevo I suoi 48 anni corrispondono nella scala di valore umana Più o meno a 15 o 16 anni 15 o 16 anni? È misurato, è molto profondo Pensavo che fossi un adulto? No, no, io voglio essere un adulto Voglio crescere e proteggere sia te che l'intero villaggio Oh ho ho, no Nanaki, non puoi ancora farlo per ora A lungo termine ne pagheresti le conseguenze Alessina raggiunge l'alto dei cieli Minaccia di termine le stelle all'erci Dalla città, la grande città di Midgar Tu l'hai visto? Beh, ho sbagliato esempio Guardare troppo in alto Ti fa perdere la prospettiva Quando giungi il pianeta in cui il pianeta muore Capisci che non sapevi assolutamente niente Quando il pianeta muore Oh ho ho Che babbo Natale Potrebbe accadere domani o fra 100 anni Ma alla fine succede Come farai a saperlo? Sento il pianto del pianeta Che cosa? Il suono delle stelle è nato dai cieli Mentre in pianeta nasce un altro muore Ok, sarebbe questo il lamento del pianeta Cos'è stato? Sembrava guattino Decidazione medaglia Solo l'ha fatto Oh ho ho Nulla è messo dal pianeta L'hai sentito, vero? Come dicevi Mi colpisce E ne soffro Nonno, i miei amici sono in viaggio per salvare il pianeta Perché non bussi al loro Le tue macchine Oh ho ho Salvare il pianeta? Allora credo che sia un Bene che le vedano Bughaenaga Ci sono un sacco di tipi strani in giro All'improvviso questo luogo si è risvegliato Ci sono altri amici Vado a chiamarli Cloud per favore Chiamali tu Che vuoi entrare solo in tren Nella macchina dei novi Forse devo rientrare di qua Mi preoccupate un attimo scappa Chiamami tu Mi tocca di nuovo velocizzare forse Qua mannaggia sta visuale Non so nemmeno manco dove nevo andare qua No vabbè Sto mettendo 100 anni Sto andando per Controllare dove è l'uscita qua Aspetta un attimo Aspetta La riesco a trovare all'uscita Qualcante Questa è la mia E niente, non riesco a trovare l'uscita, porca mi sarebbe... E niente, non riesco a trovare l'uscita.